Salve ragazzi benvenuti in questo nuovo video io sono Claudioar e oggi siamo in questo video davvero molto particolare infatti in questo video attraverso il vostro nome riuscirò a capire come siete veramente però se non lo avete ancora fatto iscrivetevi a questo canale attivate la campanella lasciate un bel like a questo video per supportarlo e per farmi capire che questa tipologia di video vi piace e casomai se volete condividete questo video anche ai vostri amici e adesso come sempre saluto anche quattro fortunati di oggi che sono Isterica e GXTV per quanto riguarda i due iscritti YouTube e il Madi69 e Stanley Ram per quanto riguarda i due followers di Instagram se anche voi volete essere salutati al prossimo video dovete solamente lasciare un bel like a questo video iscrivetevi a questo canale attivare la campanella condividere questo video anche ai vostri amici oppure se volete avere un pochino più di possibilità potete seguirmi sul mio profilo di Instagram e commentare l'ultima foto con salutami trovate come sempre il link in descrizione adesso direi di incominciare subito in questo test prima di tutto dobbiamo vedere se hai un nome corto lungo medio infatti in questa fase devi solamente vedere da quante cifre è composto il tuo nome per esempio nel caso di Paolo questo nome è composto da 5 cifre mi raccomando segnatevi questo numero perché poi sarà davvero molto importante possiamo procedere con il prossimo step ora dovete vedere qual è il numero associato all'iniziale vostro nome per esempio nel caso di Paolo la P si trova nella fila 4 una volta fatto ciò dovete sommare le cifre del vostro nome nel caso di Paolo 5 più il numero della colonna assegnata in questo caso di Paolo 4 ed il risultato è 9 nel caso vi esce come risultato un numero a doppia cifra dovete dividere i due numeri e poi sommarli per esempio nel caso di 25 si dividono i due numeri quindi 2 e 5 e sommandoli fra di loro esce 7 una volta fatto ciò possiamo vedere il risultato del vostro nome se ti è uscito come risultato 1 significa che sei un grande leader entusiasso creativo e originale tieni molta forza e ambizione e ti mobiliti affinché le tue idee siano produttive sei molto bene che la vita è una sola e per questo la vivi intensamente se ti è uscito come risultato il numero 2 significa che sei un grande organizzatore e pianificatore sei molto interessato agli altri e questo ti rende un amico eccellente e hai sicuramente dei migliori amici cerchi sempre la pace ed è per questo che non tolleri le situazioni aggressive che portano a una mancanza di armonia se ti è uscito come risultato il numero 3 significa che sei una persona socievole, aperta e allegra sei sempre intento a risolvere i problemi attraverso il dialogo, confidi nella tua voce interiore e probabilmente ti impegni anche in qualche attività artistica come per esempio la musica, il teatro o la danza se ti è uscito come risultato 4 significa che sei una persona sincera e dici sempre la verità rispetti al 100% l'ordine e le leggi, sei sempre disposto a dare consigli onesti e per questo sei molto apprezzato e rispettato dai tuoi amici o nel caso lavori dai tuoi colleghi se ti è uscito il numero 5 significa che ti piace la bellezza e l'arte, sei uno di quelli che simboleggiano la libertà e ti piace sperimentare e curiosare, inoltre ti piace viaggiare e fare nuove e sorprendenti esperienze se ti è uscito come risultato il numero 6 significa che la tua personalità rispecchia la responsabilità, la giustizia e la verità la tua vita è concentrata nella casa, nella famiglia e negli amici il tuo istinto protettivo ti porta sempre a prenderti cura dei tuoi cari se ti è uscito come risultato il numero 7 significa che sei una persona pacifica e molto intuitiva riconosci immediatamente quelle persone che non sono sincere con te tieni il dono per l'investigazione, l'osservazione e l'analisi non tieni molti amici, però quei pochi che tieni sono tutto per la tua vita se ti è uscito come risultato il numero 8 significa che sei una persona organizzata e perseverante per questo consegui tutto quello che ti proponi il tuo entusiasmo è contagioso e ispira altre persone se segui il tuo istinto e mantieni i tuoi principi hai un futuro assicurato se ti è uscito come risultato il numero 9 significa che sei generoso, confidevole e di animo nobile possiede una grande sensibilità che ti permette di percepire gli stati d'animo degli altri e questo può aiutarti a sapere come comportarti ti piace la musica, i colori e le cose belle della vita questo video test purtroppo finisce qui, mi raccomando scrivete il vostro punteggio nella descrizione e casomai condividete il video ai vostri amici se trovate questo test interessante vi ricordo che se il video è stato di vostro gradimento di iscrivervi al canale, attivare la campanella, lasciare il like e condividere il video come and get it come and get it grazie a tutti